Ciao a tutti, sono Flavia De Simone, abito ad Alessandria, Italia, Piemonte, ho 68 anni, sono pre-finalista del concorso Miss Mamma Italiana Evergreen 2024 e adesso vi presento il mio lavoro. Grazie. Queste sono le mie rose, guardate che bella, guardate che bella. E non manca la frutta, i kiwi, le fragole e poi c'è la parte più impeditiva, il mio rastrello. Comodori, come vedete vuole l'impegno affinché diventi tutto una meraviglia così. Li mantengo in forma proprio perché faccio movimento e mangio sano. Che dite voi? Che dite voi? Questo è il mio pollice verde. Grazie.